C'è stato un grande entusiasmo intorno alla figura di Gesù, ha fatto miracoli, ha moltiplicato i pani, i pesci e in molti lo hanno seguito, vedendo in lui non solo il profeta tanto atteso, ma anche un capo politico che li avrebbe liberati dal dominio romano. Ma il linguaggio di Gesù è di un'altra dimensione e i discepoli se ne rendono presto conto. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Dicono alcuni dei suoi seguaci e poi si allontanano da lui. Gesù lo sa, dentro di sé sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, ma non ha paura di rimanere da solo, deve portare avanti la missione che gli ha affidato il padre e continua a mettere alla prova quelli che gli sono vicini. Lo slancio di Pietro, a conclusione di questo brano del Vangelo, ha in sé una forza straordinaria. Signore, da chi andremo se anche noi potessimo avere questo slancio o capire finalmente le parole di Gesù che possono alcune volte apparire dure, ma sono quelle che ci danno la forza di allontanare le difficoltà, quelle che ci danno la possibilità di trovare in lui la vera vita e la vera pace. Imitiamo Maria, serbando e custodendo nel nostro cuore queste parole che ha saputo fare lei in diverse occasioni. Forse non le capiremo fino in fondo, ma fidiamoci di lui, cioè abbandoniamoci al suo amore. Buona e santa giornata a tutti! Grazie!